Una terra fertile e produttiva che incarna lo spirito dei borghi storici italiani, belli, solari, ricchi di storia e di storie di chi lo ha vissuto e abitato. L'Italia è piena di questi splendidi luoghi come anche la nostra provincia. Come quello di Ripalta, nel comune di Cartoceto, un francobollo dove abitano 70 anime ma che vanta tanti amici. È un'associazione, Ripalta e di suoi amici, che nutre un amore spropositato per questo piccolo borgo italiano. Da sette anni questi ragazzi, sostenuti dalle attività economiche della zona, danno vita al Borgo in Festa. Quest'anno dal 5 al 7 di agosto. Quest'anno vi accogliamo per la settima edizione del Borgo in Festa. Tre serate all'insegna del divertimento di tutto quanto. Partiamo dal venerdì sera, che è la serata più giovane, dove abbiamo Duilio Pizzocchi di Zelig, De Pertigas in concerto e alla fine DJ Razzirecord che ci animeranno una serata con la loro discoteca. Il sabato la cena tipica del Borgo, la serata diciamo come tutte le altre ma bella perché è una serata con cibi locali, peculiarità locali, dove si può mangiare tranquillamente, bere del buon vino e buon cibo. Si parte dalle 18, soprattutto si aprono gli stand gastronomici. La scuola di Ballo Maidensi farà un'esibizione di ballo. A seguire la grande orchestra di Matteo Tassi per chi è che vuole ballare fino a tardi, fino a tardi. Quindi sabato, serata da ballo e grande cena. La domenica si parte dal pomeriggio, dal pomeriggio alle ore 17, che quest'anno abbiamo la chicca Storia e storie di ripalle. Quindi vi aspettiamo per sapere tutte le storie di ripalta, dei nostri amici anziani che ci racconteranno tante belle cose, gestito in collaborazione con la Via della Seta. Poi a seguire ci sarà l'orchestra di Simona Quaranta che li attraverà la serata, stand gastronomici, noi vi aspettiamo tutti e anche i bambini. I bambini sono benvenuti, possiamo lasciare i bambini con le sbiruline, che è la situazione che si occupa dei nostri bambini, quindi chi è che vuole, lascia i bambini lì, che può mangiare, può ballare, può fare tutte quelle cose che vuole. E abbiamo l'ISD Dog Time, quindi gli amici e quattro zampe sono di benvenuti, quindi portate tutti gli amici e quattro zampe, che ci sarà una bella sfilata canina, sarà una bella giornata. Quindi, che dire, li aspettiamo tutti il 5, il 6, il 7 agosto a ripalta per la settima edizione del Borgo in Festa.